Signore buongiorno, oggi una location diversa rispetto al mio appartamento, la parola in diretto fondano che vi faccio scoprire oggi è scaptula, scaptula, scaptula vuol dire rincorrere quasi fare le gambe fino al collo, quindi è una corsa affannata per cercare di recuperare qualcosa oppure magari per non fare tardi ma scaptula, ho cercato di arrivare di corsa qui anche per non fare tardi, insomma quindi diciamo che è appunto un termine che si intende quasi come il verbo rincorrere, quindi scaptula è la parola in diretto fondano di oggi, se possiamo avvicinarmi per farmi vedere meglio, quindi la parola in diretto fondano di oggi è scaptula, rincorrere, a domani, ciao.